Andrea Santori ci commenta la vittoria di Albulacentro per 6 a 2 su Sant'Antonio. Albulacentro vuole in semifinale contro Salaria sabato pomeriggio. Le impressioni di Andrea? È stata una partita maschia, abbiamo giocato bene. Primo tempo combattuto, pochi gol. Noi, monestamente, in difesa siamo abbastanza forti, però in attacco ci mangiamo un po' troppi gol. Oggi il bomber l'ha fatto un paio, però potevamo farne di più. Giocatore decisivo? Gabrielli. Gabrielli è allenatore, giocatore e quello che ha fatto la squadra, senza dimenticare il presidente.